E' subentrata un po' di stanchezza soprattutto nel Verona e anche voi avete cercato comunque di non rischiare? Sì, eravamo stanchi nel secondo tempo perché comunque è stato un primo tempo a ritmi altissimi e quindi siamo calati un po' tutte e due le squadre nel secondo tempo e comunque adesso ci riprenderemo e ci alleneremo a tutta birra per domenica. Luca ti chiedo l'ultima cosa, dicevo anche con il presidente Sebastiani prima che ho visto una squadra molto più brillante rispetto al girone di ritorno anche a te ho visto un Luca Cricco con tanta più gamba insomma qual era il motivo per la vostra flessione che è durata anche un po' troppo? Guarda non lo so, sicuramente siamo stati fermi più di una settimana e abbiamo ricaricato le pile e adesso comunque stiamo bene e anche tutti i compagni ci sentiamo bene e comunque questi playoff vogliamo concretizzare quello che abbiamo fatto fino adesso siamo arrivati fino a qua e vogliamo vincere. Tra quattro giorni ci sarà la gara di ritorno, ci vorrà l'Adriatico pieno per sostenere la squadra? Sì, speriamo che verranno in molti perché abbiamo bisogno dei tifosi.